Musica Spari al parco giochi fuori grotta blindata, controlli rafforzati dopo il grave episodio di cronaca. Gli investigatori non escludono che possa riesplodere la guerra tra i clan per il controllo del territorio. La donna ferita chiede ai ragazzi di deporre le armi. Firenze e Schmidts si candida, scontro tra governo e PD. Il direttore del museo scioglie le riserve politiche e chiede l'aspettativa dalla guida del sito di Capodimonte. Dubbi del sindaco Manfredi, intanto da Salerno Roberto Fico rilancia il no all'autonomia differenziata. Vomero, l'incubo è finito, gli sfollati tornano a casa. 46 giorni dopo lavoraggine, gli abitanti della zona sono finalmente rientrati nelle proprie abitazioni. Finalmente abbiamo riavuto la nostra vita. Spiegano al nostro microfono e i tecnici assicurano, gli edifici sono sicuri. Confindustria e provincia, insieme per le cave sannite. Tutelare il compatto estrattivo per coniugare lo sviluppo e la salvaguardia del territorio. Inviata la richiesta alla regione di aggiornare il fabbisogno provinciale degli inerti. Primo risultato dopo l'iniziativa promossa dagli industriali. Gengaro e la nuova Vellino, città. Torni protagonista. Il campo largo trova l'intesa dopo mesi di estenuanti trattative. Il candidato sindaco unitario ora al lavoro per una nuova idea di capoluogo. Plauso del vicepresidente dei Cinque Stelle gubituosa, pieno sostegno a Gengaro. Napoli vincere a Monza per inseguire l'Europa. Gli azzurri chiamati a conquistare tre punti per continuare a sperare nelle coppe. In casa salernitana il pari col sassuolo non placa l'ira dei tifosi. In Serie C, grande attesa per il derby tra Benevento e Juve Stabbia e Turris Avellino. Buonasera a questi titoli del nostro Tg. In apertura c'è la cronaca ancora allarme e criminalità a Napoli. La cinquantenne ferita nel raid parco giochi di fuori grotta lancia un appello ai giovani. Fermatevi e abbassate le armi. Intanto continuano le indagini. Si teme una nuova guerra tra clan della zona. Vediamo. Ora penso a cose brutte di Napoli, ma la amo. È una bellissima città. Ferita non solo fisicamente, ma anche nell'anima. Luisa Mangiapia, la cinquantenne colpita da un proiettile vagante mentre era al parco con sua figlia fuori grotta e parla dall'ospedale San Paolo dove è stata ricoverata per la ferita la gamba. Io sono rimasta impietrita, così mi sono sentita non lo so e all'improvviso quando ho sentito lo sparo non riuscivo a sedermi perché il proiettile mi aveva probabilmente bloccato la gamba. Poi mi hanno messa subito a terra, mi hanno tamponato il sangue, la ferita con una cintura, la del mio pantalone, con una sciarpa e mi hanno portata all'ospedale. Mia figlia poi a un certo punto non l'ho vista perché è intervenuta la mia amica, l'ha portata al riparo, al sicuro, in una macchina e quindi da quel punto io non l'ho più vista. Però dopo, quando mi sono circondata da amici per intervenire, penso che mia figlia abbia visto tutto. Dopo la sparatoria sono stati intensificati i controlli e le perquisizioni. Questa mattina circa 200 operatori delle diverse forze dell'ordine hanno eseguito numerose perquisizioni in zona flegrea dando continuità ai servizi alto impatto della polizia, dell'arma e della guardia di finanza. Due pistole e un impianto di videosorveglianza abusivo, oggetti in oro di dubbia provenienza, sono stati sequestrati. Tragedia della strada nel napoletano, il 56enne Rocco Novelletti è stato investito e ucciso sulla provinciale tra Grumo Nevano e Fratta Maggiore. L'uomo era in sella alla bici quando è stato travolto da un'auto guidata da un giovane. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sull'episodio. Indagano i carabinieri. Il direttore del Museo di Capodimonte, candidato a sindaco a Firenze, scoppia la polemica a Napoli. Il PD annuncia una raccolta firme. Eike Schmidt, l'ex direttore degli uffizi, oggi alla guida del Museo di Capodimonte a Napoli, è in campagna elettorale e sarà lui il candidato del centrodestra a Firenze per le prossime amministrative. A chi gli ha chiesto se tema problemi di ineleggibilità, visto che ricopre il ruolo di guida del principale museo napoletano, Schmidt ha risposto portando ad esempio il caso di Conte. La legge è uguale per tutti. Come sapete c'è un professore universitario di Firenze, Conte, che oramai è in aspettativa da sei anni per l'attività politica. Quindi questo vale ovviamente anche per i dirigenti. Manfredi si è detto perplesso per questa decisione. Chi amministra un grande museo deve necessariamente avere un profilo di terzi età, ha sottolineato il sindaco di Napoli. Meno sorpresi gli esponenti del PD che da tempo avevano sollevato il caso politico e il rischio di lasciare la grande istituzione culturale cittadina senza una guida. Il capogruppo a Campor lancia anche una raccolta di firme. Lanceremo nei prossimi giorni una raccolta firme per chiedere al ministro San Giuliano quale idea, quale sviluppo ha in mente questo governo di destra per Capodimonte nell'interesse di tutta la città. Noi non vogliamo un direttore museale che pensi al proprio profilo politico, ma vogliamo un direttore che venga qui per rilanciare la cultura, per rilanciare il museo, per rilanciare il parco. Roberto Fico ha fatto tappa a Salerno per ribadire il no del Movimento 5 Stelle all'autonomia differenziata, rischia di spaccare il paese. Fermare l'autonomia differenziata per evitare di gettare il paese nel caos e condannare definitivamente il sud è la sfida che ha rilanciato da Salerno l'ex presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, protagonista di un convegno in provincia organizzato dal gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle. Se approvano un'autonomia differenziata, questo paese cambierà per sempre, svuoterà il senso della nostra Repubblica. Allora siamo qui dal sud, da Salerno, per ribadire il secco no del Movimento 5 Stelle all'autonomia differenziata, che spacca il paese e dà vantaggio a chi è più ricco a svantaggio di chi è più povero. Due fronti portati avanti dai pentastellati per contrastare la riforma. Ci muoviamo su due direttrici, la prima è la battaglia parlamentare che stiamo facendo in commissione e faremo in aula, e la seconda è mobilitare le piazze, l'opinione pubblica, spiegare cosa è l'autonomia differenziata e perché è qualcosa di veramente pericoloso. Fico ha poi rilanciato il progetto del Campo Largo, indicando il modello messo in campo al Comune di Napoli, come linea guida per le prossime regionali. Perché gli step sono sempre questi. Primo punto, condividere obiettivi comuni e soprattutto valori e principi comuni. Secondo, cercare di attualizzare un programma insieme che possa essere per il bene comune dei cittadini. E terzo, i rappresentanti che meglio possono interpretare quel programma. è quello che abbiamo fatto a Napoli ed è quello che vogliamo ripetere in Regione Campania. Possono finalmente rientrare nelle proprie case i residenti di Via Morgan che furono sgomberati a febbraio scorso dopo una voragine che si aprì all'incrocio con Via Bonito. Felici di riavere le nostre vite, dicono. Sentiamo. Si dicono felici di riavere le proprie case e le proprie vite i residenti di Via Morgan al Vomero che nello scorso febbraio furono costretti ad abbandonare le proprie case dopo l'apertura di una voragine. In questo momento comunque gioia perché finalmente rientriamo nelle nostre case. Certamente rimane il rammarico del silenzio del comune. Però comunque adesso ricominciamo a vivere. Ho passato più di un mese e mezzo, quasi due, e quindi sono ben contenta di rientrare. È stato duro, è stato molto duro trovarsi improvvisamente, svegliarsi alle 4 del mattino e lasciare la casa improvvisamente. E vabbè, ho passato questo periodo a parte a casa di mio figlio e in parte a via Omodeo dove ho preso un appartamentino. E spero che mi vengano rimborsate anche le spese che ho dovuto sostenere per fettare questo appartamentino. Il certificato di eliminato pericolo è stato firmato ed è stato presentato al comune che l'ha ricevuto ed avviato le procedure per riammettere gli inquilini nei loro appartamenti. Il palazzo non ha subito danni, rassicura il tecnico incaricato. Non ci sono pericoli per la stabilità dell'edificio, questo lo dico anche per tranquillizzare i condomini che possono rientrare. Ovviamente ci saranno degli interventi di manutenzione da fare, soprattutto per gli appartamenti che hanno ricevuto danni maggiori, ma questo non infiscia la stabilità del fabbricato. Fumata bianca per gli oltre 150 lavoratori dell'ex ipercop di Afragola, siglato l'accordo per assorbire tutti i dipendenti grazie alla regia dell'assessorato alle attività produttive della Campania. Un braccio di ferro durato tantissimo tempo, ma che ha visto finalmente una conclusione positiva. Sono salvi 153 lavoratori dell'ex ipercop di Afragola. Tutti i dipendenti troveranno una nuova occupazione con il passaggio del punto vendita al marchio Sole 365, intesa siglata in regione con la mediazione dell'assessore alle attività produttive Antonio Marchiello. Il risultato è ottimo perché tutto il personale verrà assorbito da questa nuova proprietà, 150 dipendenti, faranno un percorso di formazione, finito il corso di formazione, direttamente l'assunzione a tempo indeterminato. Quindi garanzia del quarto livello occupazionale, garanzia massima per quello che abbiamo chiesto. Ci sono tutte, la regione metterà ovviamente impegno per la formazione, ma ripeto, quello che è importante è che dopo una lunga lotta dove i dipendenti hanno dimostrato caparbietà ma anche dignità, io li ho tutelati, tra virgolette, perché loro hanno creduto in quello che facevamo. Ho visto occhi lucidi di molti di loro per la contentezza. Dopo l'avvertenza Whirlpool la campagna del lavoro torna a sorridere. Il commento del segretario regionale della CGL Nicola Ricci che ha elogiato il lavoro sinergico sotto l'egida della regione che ha consentito di arrivare ad una soluzione positiva per tutte le maestranze. Il campo largo stenta a decollare, PD e 5 Stelle si scontrano spesso sui nomi ma è necessario costruire un'offerta politica chiara e sincera. Così il sindaco di Napoli. Sentiamolo. Una politica del mezzogiorno come grande ponte dell'Europa sul Mediterraneo deve essere soprattutto una politica europea oltre che nazionale. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione dell'evento Agenda Sud 2030 dove l'Europa incontra il Mediterraneo in corso a Napoli. Manfredi non si è sottratto anche ad una riflessione più politica che investe PD e 5 Stelle ovvero quel campo largo di cui è stato pioniere e ha parlato dei conflitti che ci sono oggi tra i due maggiori partiti dell'area progressista. I conflitti che ci sono oggi anche tra 5 Stelle e Partito Democratico spesso sulla scelta dei nomi e così via derivano anche dal fatto che non si è riuscita a costruire ancora un'offerta politica soprattutto questo a livello nazionale in cui tutti si riconoscono ovviamente anche con le proprie distinzioni ma in maniera sincera e in maniera chiara. Io penso che su questo il Sud debba dare un contributo. Ci sono tanti amministratori che possono farlo. Credo che ci sono anche tanti esponenti della società civile che possono dare un contributo importante. Il tema è avere una classe dirigente del Mezzogiorno che sia finalmente protagonista Roma. Noi ne abbiamo veramente bisogno. ma ne ha bisogno veramente il Paese perché solo in questa maniera si possono superare delle barriere degli ostacoli che fino ad oggi sembrano insormontabili. Però c'è bisogno di voci nuove ed è nuove. Ed ora con Gianni Vigoroso le immagini esclusive del primo locomotore senza passeggeri che ha fatto da collaudo questa mattina lungo la tratta ferroviaria Roma-Bari-Lecce ad Ariano Irpino attraversando la galleria Starza interessata dalla frana. Sabato 6 aprile 2024 eccolo il primo treno prova che fa da collaudo al ripristino dei collegamenti lungo la tratta ferroviaria Roma-Bari-Lecce dopo il blocco dei collegamenti a causa della frana che ha interessato la galleria Cristina si riparte regolarmente da lunedì prossimo la soddisfazione del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza. È una notizia importantissima perché si restituisce ovviamente un servizio essenziale agli utenti alla cittadinanza non solo a città d'Ariano ma a tutto il territorio ovviamente è un risultato importante significativo conseguito evidentemente da RFA da Ferrovia dello Stato anche devo dire anche grazie ad un rapporto diciamo di collaborazione di sinergica collaborazione che mai è mancato in questi giorni così difficili e quindi ecco ringrazio ovviamente Ferrovia dello Stato per aver assicurato anche in tempi celeri anche prima del previsto prima del cronogramma perché ricordo che era il 14 aprile avrebbe dovuto essere diciamo la data di riapertura della tratta insomma con qualche giorno anche di anticipo possiamo dire insomma ecco che è stata ripristinata questa importante tratta ferroviare che collega il nord al sud dell'Italia Confindustria Benevento e provincia insieme per il comparto estrattivo per lo sviluppo e la salvaguardia del territorio avviata la richiesta ufficiale alla regione per aggiornare il fabbisogno provinciale degli inerti sentiamo il presidente della provincia di Benevento Nino Lombardi ha emiato in regione la richiesta di aggiornamento del fabbisogno di litotipo calcare ovvero delle rocce una richiesta avanzata dalla Rocca dei Rettori dopo una serie di incontri tecnici a cui hanno preso parte Confindustria Ance e provincia dopo che le aziende del comparto estrattivo ed edilizio hanno più volte evidenziato la cronica carenza di materiale calcareo sono soddisfatto sono soddisfatto di questa sinergia istituzione provincia con Confindustria e associazione Ance perché insieme abbiamo fatto questa fotografia voglio dire di criticità di opportunità del nostro territorio Non aumentare la quantità di materiali prelevabili potrebbe generare dei rallentamenti per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali Un'azione estrattiva degli inerti perché metterebbe voglio dire alla luce voglio dire sicuramente una riga tuta a favore del tessuto imprenditoriale e allontanerebbe anche quell'importo quelle importazioni di inerti che viene dal Morisi che viene dalla Puglia che genere poi un ulteriore inquinamento per il nostro territorio Sinergia resta la parola d'ordine È stata una bella pagina che ha scritto l'istituzione provincia di Benevento con Confindustria nella persona anche del presidente di Corito del lance di Ferraro Una dipendente dell'Inps di Salerno è stata aggredita e minacciata con un coltello da un utente che ha cercato anche di incendiare dei documenti i sindacati lanciano l'allarme più sicurezza sui luoghi di lavoro sentiamo Minacciata con un coltello a serramanico nascosto tra i fogli di carta ennesima aggressione ai danni di una lavoratrice a Salerno a renderlo noto la funzione pubblica della CGL vittima una dipendente della direzione provinciale dell'Inps di Corso Garibaldi l'utente avrebbe anche cercato di appiccare un incendio nella stanza dove era stata ricevuta provando a dare fuoco a incartamenti prelevati dalla scrivania la lavoratrice con l'aiuto del personale di vigilanza e della polizia è riuscita a scongiurare il peggio bisogna intervenire per garantire tutele ai lavoratori il clima nelle strutture pubbliche esasperato denunciano i sindacati abbiamo subito richiesto ovviamente alla direzione provinciale di aumentare la sicurezza e di aumentare i controlli perché i dipendenti pubblici hanno la necessità di lavorare in sicurezza per poter garantire quei servizi di cui i cittadini hanno bisogno vicinanza alla dipendente IMS aggredita ma la richiesta è che simili episodi non accadano più abbiamo espresso solidarietà ovviamente a tutti i dipendenti e anche alla lavoratrice aggredita e quindi chiediamo maggiore attenzione perché il servizio pubblico è centrale per questo paese e ha bisogno di lavorare con tranquillità e soprattutto in sicurezza Prime reazioni alla candidatura a sindaco di Antonio Gengaro per il centro-sinistra Michele Gubitosa vicepresidente nazionale 5 Stelle plaude all'unità sentiamo Ieri sera al termine di un lungo percorso affrontato dal Movimento 5 Stelle insieme a partiti associazioni e movimenti del centro-sinistra si è finalmente trovata la convergenza sul nome del candidato sindaco Antonio Gengaro la cui storia politica è nota a tutti i cittadini avelinesi e a lui va il mio pieno e sincero sostegno lo dichiara il vicepresidente nazionale dei 5 Stelle Michele Gubitosa che aggiunge il percorso affrontato dai componenti del tavolo del cosiddetto campo largo che a me piace definire campo giusto non è stato certamente facile abbiamo attraversato alti e bassi ma come ho sempre ribadito è meglio chiarire eventuali problematiche interne e iniziare un percorso comune piuttosto che allearsi solo e unicamente con lo scopo di vincere le elezioni così da non rischiare che certe difficoltà possano emergere quando sia il governo della città poi da Gubitosa arriva una frecciatina alle altre coalizioni non posso non notare che la coalizione del campo giusto ritenuta da tutti in ritardo su nuovi programmi sia stata invece la prima a darsi una composizione netta e chiara da altre parti e vale sia per il centro-destra che per l'amministrazione comunale uscente non conosciamo ancora né i candidati a sindaco né tantomeno l'esatta composizione delle coalizioni intanto Antonio Gengaro già si presenta con idee chiare per la città puntare a riqualificare Avellino finalmente a realizzare i parchi a dare verde pubblico alle donne ai bambini a rifare degli asili nido comunale ovviamente bisogna anche capire il livello delle risorse della città bisogna uscire da questo isolamento provinciale era diventato un luogo di ritrovo per stranieri e senza tetto tra incuria e abbandono nelle ultime ore il comune di Napoli ha coordinato un'operazione di sgombero dell'ex mercato ittico di via Vespucci dopo moltissime segnalazioni e denunce abbiamo avviato il recupero di una situazione decennale di degrado ha fatto sapere l'assessore alla legalità Antonio De Jesu l'area adesso è stata delimitata con blocchi di cemento e recinzioni metalliche la struttura è ancora abbandonata e i resti di anni di incuria sono evidenti ma intanto si prova a restituire dignità all'intero comprensorio dell'ex mercato ittico era l'ultimo servizio il TG termina qui grazie di averci seguito vi auguro una buona serata a presto a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti.